bello a tutti ragazzi sono Matteo sono tornato con questo nuovo video tutorial oggi cosa vi voglio presentare vi voglio presentare l'antivirus più leggero più veloce e ve lo raccomando signori veramente gratis non è a pagamento e non ha bisogno di nessuna registrazione ripeto nessuna registrazione quindi ascoltatevi bene in questo video perché signori veramente pochi di voi lo conosceranno e se lo conoscete tanto di cappello questo antivirus si chiama Baidu antivirus come potete vedere qua è un antivirus cinese lo so voi direte ma ti fidi di qua e di là signori io mi fido ce l'ho da più o meno tre mesi è un antivirus veramente eccezionale signori mi trova mi ha trovato molti virus che ho avuto problemi o magari cose scaricate da indre così comunque adesso ve lo faccio vedere ha un'interfaccia semplice veloce veramente bellissimo ci vuole niente si può cambiare anche la lingua si può cambiare lo skin comunque è come gli altri antivirus solo che più leggero non è a pagamento e che non richiede registrazione un antivirus che secondo me signori tutti cerchiamo di avere perché come sapete benissimo voi Norton, Nod32, Avast e molti altri richiedono tutte quelle cose che vi ho leccato prima cioè pagamento registrazione e tante altre balle che rompono le vale sempre comunque è nuovo perché è uscito nel 2014 è uscito qualche mese fa allora come potete vedere ha un'interfaccia semplice veloce dice il sistema non viene analizzato da molto tempo cioè la scansione veloce la scansione completa che poi voi dovrete decidere quale partizione quale parte del computer far scansionare e poi la scansione personale cioè il desktop i documenti o comunque altre scansioni vedete qua vi dà l'elenco disco locale c unit ad vd documenti desktop computer se poi voi fate la freccia qua in parte allora vi darà computer cioè prevenire le infezioni da via sul vostro pc internet queste qua sono tutte le cose che l'antivirus vi da gratis già attive da quando lo scaricate cioè la protezione del computer di internet la tutela della privacy poi ce ne sono altre aspettate ah come potete vedere se voi schiacciate su internet vi da protezione download anti phishing e molte altre robe tutela tutte le cose vedete vedete sono tutte attive o no 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 tutte attive sono internet computer tutto attivo anche su computer come potete vedere poi allora per cambiare allora le impostazioni io faccio esegui vadoo antivirus alla via del computer perché se qua sono le impostazioni già preimpostate quando ve lo scaricate lo installate poi interfaccia lingua qua dovete cambiarla perché sarà in inglese mettete italiano fate ok e il vostro antivirus sarà italiano poi c'è la scansione pianificata protezione del sistema dovete assicurarvi che ci sia scritto attiva protezione del sistema cioè in tempo reale poi aggiornamenti ve li chiederà ma li farà anche in automatico e niente signori vi lascerò link in descrizione mi raccomando scaricatevi questo bellissimo antivirus perché vi servirà sicuro è bello veloce non ripeto non chiede pagamento non chiede registrazione e pesa veramente pochissimo leggerissimo e tutto quindi cancellate il vostro vecchio antivirus e scaricatevi questo ciao a tutti per questo video è tutto iscrivetevi al canale commentate condividete alla prossima